ciao a tutti amici e amiche creative mi vedete fatemi sapere se mi vedete così possiamo iniziare mi sono collegata qualche minuto prima in modo da riuscire a capire un po se mi vedete siamo già in 42 pollici in su ciao kira kawaii ciao ciao andy ciao franci siete già in 16 tantissimi ciao ciao franci ciao kira kawaii tv ok vediamo un po se riesco a leggere tutti i commenti siamo in 19 ciao a tutti allora che ore sono manco un minuto così possiamo iniziare quindi mi vedete bene mi sentite sembra di sì con la connessione un po debole peccato però che cosa crei allora oggi andiamo a preparare un cerchietto per capelli come ad esempio questi però oggi vado a realizzarlo con delle stoffine ciao Antonietta con una stoffina molto simpatica che questa qui con i pulcinetti anzi penso siano delle gallinelle questa è la stoffa completa molto carina e ve l'avevo fatta vedere nei miei acquisti della settimana scorsa e questa stoffina l'ho presa sul sito di laura del canale ip witch allora vediamo un po a state aumentando adesso siete in 24 ciao a tutti ok Antonietta mi dice che mi vedete bene perfetto allora che dite vi dico un po i materiali che che andremo ad utilizzare allora una base per cerchietto questa è una semplicissima base ed è in genere quelle che utilizzo sempre per realizzare i miei cerchietti in plastica come vedete qui anche i dentini io tanto tempo fa li tagliavo con le tronchesine però poi comunque ho visto che non rovinano la stoffa e ho deciso di lasciarli quindi non li taglieremo neanche per questa volta buon pomeriggio cara ciao martina poi ovviamente ago e filo a seconda del colore della stoffa che dovrete utilizzare la mia è una stoffa scura vediamo un po cosa dice grazie che deciso di fare questa live che bella stoffa hai scelto grazie andy ciao mariella ciao adriana sei iscritta da poco benvenuta questo è il primo video live in cui creiamo in diretta il secondo il primo video l'ho fatto la settimana scorsa dove ho provato un pochino come funzionava questa storia delle live in diretta cioè le live fatte dal cellulare ciao maya ciao imma state arrivando tutte allora cosa dite aspettiamo ancora un po oppure inizio a cucire il cerchietto ditemi saluda a me deni cabaliero spagnola ola deni questa è la prima volta che ti vedo diciamo dal vivo grazie mi fa molto piacere allora vi spiego un pochino in genere ciao filomena tutto ok tutto che grazie tu ciao dani ciao dalina allora io in genere quando devo preparare un cerchietto quindi rivestirne uno hola saludo desde ecuador hola andrea che bello anche dalla spagna dall'equador mi seguite sono troppo contenta allora questo è uno dei cerchietti è un modello classico che io in genere realizzo con il fiocchetto in genere lo realizzo anche col doppio fiocco poi vabbè all'interno vado ad incollare anche la passamaneria ma non penso che nella live di oggi farò in tempo a farvi vedere come incollare la passamaneria ma comunque ho preparato tantissimi tutorial fa dei cerchietti e quindi potete vedere come l'ho rivestito anche all'interno allora questa base misura 37 centimetri e in genere questa è la lunghezza standard per misurare un cerchietto è semplicissimo basta prendere un metro e far partire il metro da qui e arrivare fino a qui e poi ovviamente avrete una lunghezza all'intorno all'incirca di 37 centimetri o 38 queste sono le lunghezze standard quindi una volta misurata la lunghezza del cerchietto vado a riportare la lunghezza sulla stoffa e io ho ottenuto una striscia lunga non 37 centimetri ma in genere per rivestire un cerchietto aggiungo 4 centimetri in più per non sbagliare allora come per quanto riguarda la larghezza invece questo cerchietto misura di larghezza 2 centimetri e mezzo e quando vado a tagliare la stoffa la taglio all'incirca di 5 centimetri poi ovviamente se troppo largo durante i vari passaggi vado a tagliarlo quindi guardate un pochino si vede che è più largo perché devo rivestire per bene il cerchietto allora siete arrivati in tantissimi vediamo un po i vostri commenti così piano piano rispondo anche alle vostre domande imma dice hai sempre delle bellissime idee grazie mille imma poi eloisa mi saluta dalla spagna hola eloisa saludos poi martina scuderi è stupendo grazie ok dove posso comprare la stoffa questa in genere è una domanda che mi fate spesso la potete comprare nei negozi dove vendono tessuti nei vostri paesi altrimenti la comprate su internet questa che sto utilizzando l'ho comprata sul sito di p which oppure anche su tantissimi altri siti li trovate io ad esempio i pizzi ultimamente li sto comprando sul sito di banggood che sono molto economici e mi ci sto trovando molto bene ma in genere per le stoffe le compro qui da me dove vengono i tessuti oppure su internet e quindi come avete visto nel sì nel nello shop online di laura allora per rivestire un cerchietto io in genere parto da metà base quindi da qui perché all'inizio potrebbe un po scapparvi la stoffa quindi adesso vi faccio vedere come la posiziono dovete lasciare 1 2 centimetri di distanza dalla base del cerchietto ovviamente dovete sempre tagliare la stoffa più lunga del cerchietto meri dice ciao sei bravissima ciao ciao giada sei bellissima grazie quindi così e dovete andare a chiudere il vostro cerchietto io adesso non so se riuscirò a farvelo vedere bene allora su aliexpress pensi che le stoffe sono scadenti oppure no io ultimamente ho comprato anche delle stoffe da dei siti cinesi quindi da banggood da dorian beads e alla fine sono le stesse stoffe che vendono su aliexpress praticamente devi leggere bene la descrizione quindi cercare di capire di che materiale sono queste stoffe quindi se sono di cotone che va benissimo altrimenti poi se sono poliestere non so dipende da cosa devi realizzare quindi magari visto che le stoffe su aliexpress costano pochissimo se sei tanto curiosa di sapere come sono queste stoffe magari ne compri una visto che costano poco e poi vedrai tu se ti troverai bene o meno a me è capitato di comprare stoffe da siti cinesi e mi sono trovata bene ciao silvia sei bellissima e complimenti per le idee che realizzi grazie mille e quindi complimenti oggi siete troppo gentili allora partiamo col cerchietto se no oggi non lo realizzerò più allora si è bloccato il video la mia connessione penso di sì perché per il momento va tutto bene fatemi sapere se mi vedete allora quindi posiziono per bene la stoffa sul cerchietto ok mi vedete perfetto allora guardate un po' adesso prendo aggo e filo ovviamente il filo dovete prima farci un nodino altrimenti scapperà tutto quanto allora metto un po' così così mi vedete bene allora vado a piegare gli estremi della stoffa verso l'interno e semplicemente con aggo e filo vado a cucirli allora provo a cercare un po' una posizione perfetta ok adesso dovreste vederlo anche voi quindi semplicemente vado così a cucirlo visto che siamo in diretta vi renderete anche conto alla fine di quanto ci vuole più o meno per rivestire un cerchietto perché in genere quando faccio i tutorial ovviamente i vari passaggi sono sono velocizzati che vediamo se così riuscite a vedermi bene nel frattempo se volete farmi qualche altra domanda sui materiali dove li acquisto oppure su qualche altra curiosità fatemela pure così io nel frattempo continuo a cucire sperando di riuscire a farvi vedere bene quello che sto facendo è un po' un caos fare queste live quando si vuole creare perché è un po' difficile capire come ci dobbiamo mettere bene per riuscire a farvi vedere bene i vari passaggi a poi ecco dovevo dirvi anche questo purtroppo sono una settimana senza il pc probabilmente sarò senza computer anche tutta la settimana prossima e quindi non potrò fare dei tutorial ho fatto questa live appunto perché alcune di voi si sono rese conto che non ho pubblicato nessun nessun video sul canale e quindi per tenervi compagnia ho deciso di fare diciamo questa sorta di video in cui vi faccio vedere come creare un cerchietto guardate questa è la cucitura che sto facendo è semplicissima non preoccupatevi se la vostra cucitura non sarà perfetta perché poi io ad esempio andrò ad incollarci sopra della passamaneria quindi come vedete le cuciture sono ben nascoste e non si vede niente nel frattempo mi avete lasciato tantissimi altri commenti vediamo un po' ti vedi benissimo perfetto bellissima la sofa che hai acquistato grazie si era veramente carinissima e poi l'ho trovata che costava pochissimo era un'offerta ne ho approfittato adriana dice io sto amando i tuoi video sullo stile shabby chic forse sono vecchi ma li sto adorando adorando fanne qualcun altro sì certo i miei video sono sempre in preparazione perché come vi ho detto anche nella live scorsa io adoro i progetti shabby chic tra l'altro questa settimana dovevo pubblicare proprio ieri volevo pubblicare un tutorial su come realizzare dei fiori shabby chic ve ne faccio vedere qualche esempio ho realizzato questo super morbidoso e gonfio all'interno ho incollato un fiorellino con le perle e i mezzi cristalli e siccome comunque questo è un fiorellino penso che prossimamente vi farò vedere il tutorial anche di questo fiorellino perché sto preparando una rubrica come avete anche già visto dedicata ai fiori in stoffa e visto che questo è un fiore vi farò vedere come realizzare i fiori con le perle poi ho realizzato questo che è bellissimo e uno dei miei preferiti è del pizzo rosso è molto bello tra l'altro sono molto carini per realizzare degli accessori per capelli guardate anche questo sempre con il pizzo molto molto bello e li ho preparati pensando siccome alcuni di voi mi chiedono dei consigli su come poter abbellire le proprie bomboniere o comunque delle creazioni shabby chic ho preparato questi fiori proprio perché secondo me sono carinissimi per abbellire le bomboniere guardate questo è tutto in tulle e ha anche delle parti dorate e praticamente erano delle stelline e quindi proprio ieri dovevo pubblicare questo tutorial però mi si è spento definitivamente il computer perché si è guassato l'alimentatore del mio pc lo devo ricomprare su aliexpress e quindi per una o due settimane sarò proprio fuori uso con il canale a meno che io realizzi delle live poi vediamo un po' Kira Kawaii TV sei bravissima bravissima e creativissima quando vedo il tuo video live mi fai sempre sorridere grazie poi hai mai fatto creazioni in resina? sì ho fatto un video riguardante creiamo insieme con la resina in cui vi ho fatto vedere passo per passo come si lavora con questo materiale e devo dire che all'inizio ero molto scettica a utilizzare la resina perché essendo un materiale che può essere comunque anche pericoloso perché è un materiale chimico avevo paura che magari puzzasse anche invece non rilascia nessun odore mi sono trovata molto bene mi sono divertita in questi giorni ho preparato delle creazioni in resina ho fatto dei cioccolatini delle rose per i miei lavori shabby chic quindi sì mi trovo benissimo con la resina l'ho finita e la devo ricomprare poi si vede benissimo perfetto allora farai video dove farai delle fiorerie shabby chic è un progetto molto grande mi piacerebbe molto fare una fioriera in realtà ne ho fatta anche una in miniatura con le mollette sempre dal tocco shabby chic la trovate nel canale poi ciao daniela poi giada mi dice anche se ho 11 anni ho appena scoperto la cosa più bella del mondo cucire brava giada bravissima hai detto proprio bene quando si scopre la creatività già da piccoli è una cosa fantastica poi andy mi dice non preoccuparti silvia ti aspettiamo sempre quando non riesci giustamente a fare i video grazie mi fa troppo piacere poi sono bellissimi ciao laura del canale hippie witch ecco laura hippie witch ha lo shop online dove ho acquistato le stoffine che oggi sto utilizzando poi martina dice sono adorabili complimenti grazie carmela sono bellissime grazie allora valentina mi dice ciao sono insieme mia figlia alessia ci saluti certo ciao valentina ciao alessia maia bellissimi fiori quello rosso in video sembra un garofano vero e si è veramente bellissimo e poi sono carini anche per realizzare degli accessori per capelli quindi dei cerchietti poi Adriana io adoro lo stile shabby chic la mia casa la sto redondo tutta su questo stile e fai benissimo ciao Anna Maria si questo stile è fantastico a me piace tantissimo come ho detto anche nella live precedente questo stile shabby chic adesso sta andando molto di moda quindi si trova tantissimo tantissime cose per arredare la propria casa ovviamente alcune ho visto che sono veramente carissime quindi in genere preferisco realizzarmele da sola perché si risparmia poi ad esempio se si vuole fare una sedia dal tocco shabby chic si può andare ad esempio in un negozietto dell'usato acquistarne una vecchia costeranno intorno 10-20 euro neanche anzi molto meno e poi comunque voi la potete potete togliere il cuscino rifoderarlo con la sofa shabby chic che più vi piace dipingerla insomma con lo stile shabby chic si possono creare tantissime cose a proprio piacimento perché è uno stile elegante però è molto semplice quindi ci possiamo veramente sbizzarrire ma qualcuno di voi sta preparando il cerchietto insieme a me fatemelo sapere sono bellissimi questi fiori anche io adoro tutto quello che è shabby sì anche io viva lo shabby attendo i tuoi tutorial sono con la mia nipotina Gaia la saluti certo ciao Gaia quanti anni ha la tua nipotina fammi sapere ciao Silvia complimenti sei davvero brava anche io come tanti adoro lo stile shabby chic poi Eloisa mi scrive un messaggio tutto in spagnolo e mi scrive mi dispiace non posso terminare di guardare il tuo video in diretta perché devo uscire sperando di poterlo vedere ma starde un abbrasso un abbrasso Eloisa besos ecco a proposito di questo dovevo chiedervi e invece i pizzi per realizzare questi fiori stupendi dove li prendi allora io a dire la verità a volte mi è capitato di riciclare delle vecchie tende che magari mia madre non utilizzava più e quindi per non buttarle via visto che avevano un pizzo molto bello ho deciso di riciclarlo appunto per realizzare dei fiori oppure per rivestire tantissime cose oppure il pizzo lo potete semplicemente acquistare se si tratta di strisce di merletti o avete qualche nonna che è talmente brava che li ha realizzati lei oppure semplicemente li comprate o nei negozi cinesi quindi dai cinesini sotto casa li trovate costano 1 euro 1 euro e 20 e sono più o meno un metro due metri oppure dove vendono i tessuti quindi nei negozi dove vendono i tessuti nel vostro paese per risparmiare potrete acquistare direttamente la striscia grande al metro di pizzo altrimenti se andate a comprare proprio il merletto quello fine costicchia un po' perché comunque ha una lavorazione molto diversa rispetto al pizzo a metraggio però a seconda dei lavori che dovete realizzare tipo questi fiori vanno benissimo anche i pizzi a metraggio altrimenti anche voi vi mettete ad acquistare delle magliettine scontatissime in pizzo come a volte faccio io oppure delle calze velate in pizzo poi prendo e riciclo tutto perché mi piace così allora Adriana diceverò costano davvero molto in giro infatti da quando ti ho scoperto mi sto attrezzando per poter realizzare le cose che realizzi tu mi fa molto piacere ciao Claudia sei anni è molto attesta sei anni è molto attesta dal tuo video a sei anni non ho capito allora ma quanti anni hai dalla tua voce sembri molto giovane si lo so ho 27 anni sei davvero molto brava alla regina dello sciabbi grazie è troppo gentile ciao Lily allora vi dovevo chiedere un consiglio perché era una cosa che vi dovevo chiedere da tanto tempo ma ogni volta me ne dimentico nel frattempo il mio cerchietto man mano sta prendendo vita allora devo cambiare filo ho deciso all'inizio di utilizzare un filo bianco in modo che possiate vedere la cucitura che sto facendo ma adesso l'ho finito quindi cambio filo e per cambiare filo basta semplicemente fare un nodino e poi tagliarlo senza problemi quindi adesso cambio il filo allora ciao Silvia che mi sono persa allora Lily stavo facendo vedere che materiali servono per rivestire un cerchietto Alessandra dice da poco che ti seguo i tuoi lavori mi piacciono tanto grazie Alessandra mi fa molto piacere poi Antonietta dice io dovrei fare 10 cerchietti per prima comunione da regalare alla chiesa per darli insieme alle tuniche ah che bello li lasciano indossare i cerchietti perché in genere qui da noi quando i bimbi fanno la comunione devono essere proprio vestiti tutti uguali quindi col saio e forse le cose e forse le cose molto appariscenti non le lasciano indossare però vabbè dipende anche dal parroco allora ma non ho idea se mi puoi aiutare tu i miei sono quelli sottili però ma allora i cerchietti per rivestirli puoi benissimo utilizzare anche quelli sottili non cambia niente l'unica cosa che cambia ovviamente è che devi tagliare la sofà più stretta tutto qui io in genere ho realizzato spesso dei cerchietti per la comunione dei bambini delle bambine e mi sono divertita tantissimo a realizzare questi cerchietti io ad esempio ho fatto un primo passaggio con del raso beige quindi invece di utilizzare della sofà colorata ho utilizzato del raso beige ne ho ancora qualcuno forse dopo ve li faccio vedere tanto ce li ho qui dentro l'armadio conservati bene quindi ho rivestito prima con il raso beige poi dopo aver rivestito con questo tessuto ho utilizzato il pizzo bianco oppure beige e ho rivestito semplicemente tutto il cerchietto e il pizzo che ho utilizzato è più o meno questo una sorta di retina un classico pizzo e poi ho fatto dei fiorellini ad esempio se vuoi puoi realizzare questi fatti così che sono semplicissimi e veloci col tulle poi ecco aspettate mi sposto un attimo così vi faccio vedere gli altri fiorellini eccoli qui ce li avevo giusto qui perché li stavo preparando da poco eccoli qui puoi fare questi fiorellini qui e ho già fatto i tutorial ho già anche realizzato un tutorial su un cerchietto molto elegante quindi più o meno le idee le trovi già allora vediamo un po' dove posso trovare i pizzi con la quale hai fatto i fiori nei negozi dove vendono i tessuti della tua città poi Valentina mi dice anch'io amo tantissimo lo stile shabby ho fatto anche tante creazioni anche e i tuoi video mi danno tanta ispirazione grazie mi sono sfuggiti i fiori puoi farmeli rivedere? certo sono questi qui allora ieri dovevo pubblicare il tutorial di questi fiori dal tocco shabby ne ho fatto anche altri rosa troppo carini poi li ho attaccati in un cerchietto e non ce l'ho più quel cerchietto perché l'ho regalato e poi anche questi coltulle praticamente sono utili per decorare bomboniere lavori shabby chic e ieri dovevo pubblicare il video oggi mi sto perdendo proprio in chiacchiere perché sto pensando a leggere i vostri commenti poi sto facendo il cerchietto quindi 50.000 cose in una volta non riesco a farle e dicevo ieri dovevo pubblicare il tutorial però mi si è guastato l'alimentatore del computer purtroppo la batteria del mio computer non regge e non lo posso accendere quindi finché non comprerò un alimentatore nuovo del computer sarò senza computer e quindi niente tutorial fino a che non risolvo questo problema nel frattempo visto che questa settimana non ho potuto caricare niente ho deciso di fare con voi questo cerchietto in modo da tenerci compagnia e comunque creare insieme qualcosina e quindi viva i lavori shabby chic io li adoro ormai l'avete capito grazie sono contenta che ti piacciono i fiorellini e poi sono molto carini anche per realizzare dei cerchietti per capelli guardate ad esempio questo ovviamente con la sua stoffina blu con i pua sarebbe molto molto carino come cerchietto e poi i cerchietti sono la cosa che mi piace di più fare perché con una stoffa colorata riuscite comunque a realizzare una bellissima creazione e se dovete fare un regalo fate veramente un figurone ad esempio se dovete fare un regalo per una bambina che deve fare la comunione io spesso ho regalato dei cerchietti ho fatto dei cerchietti con il raso beige poi dei fiorellini come questi e sono rimasta veramente contente soprattutto le mamme erano felicissime di quel regalo perché i cerchietti piacciono molto io quando ero bimba avevo tantissimi tantissimi cerchietti e a dire la verità li utilizzavo fino ai 16 17 anni però erano tutti comprati non erano fatti da me e poi vabbè quando ho fatto 18 anni ho smesso di indossare i cerchietti perché già che sembro una ragazzina di 17 anni se poi continuavo ad indossare i cerchietti già che non li dimostro adesso 27 non li avrei dimostrate ancora di meno che bonitas flores grazie grazie ciao mi saluti per favore felicity ciao felicity si potrebbero mettere anche sulle scarpe o borse esatto anche per decorare qualche magliettina poi filomena mi dice sei molto dolce brava e spiega in maniera chiara grazie hola Andrea bellissimas flores grazie allora Giada dice scusa la mia demenza ma l'alimentatore sarebbe il caricabatterie sì quello purtroppo è così io la batteria del mio computer non funziona più quindi se non ce l'ho attaccato alla corrente col caricabatterie non si accende poi Andy hai mai realizzato qualche accessorio anche per te stessa? allora agli inizi si realizzavo per me stessa anche dei cerchietti perché erano veramente cioè sono non per essere modesta però riesco a realizzare dei cerchietti molto molto belli e quindi mi piacevano talmente tanto che dicevo basta anch'io li voglio indossare quindi sì all'inizio per me stessa realizzavo i cerchietti poi bracciali collane come vedete io in genere non indosso quasi niente non indosso collane non indosso orecchini non indosso bracciali perché ne ho fatti talmente tanti che mi sono stufata e ho detto no basta non voglio vedere più niente quindi non indosso né orecchini niente l'unica cosa che sto indossando è questo braccialetto verde che è un cordoncino semplicissimo verde poi qui ha il gancio in argento che questo l'ho fatto io per me e non so se lo sapete perché comunque paese che vai tradizioni che trovi ad esempio qui in Sardegna il braccialetto verde è uno scaccia uno scaccia a malocchio e quindi ho appunto per questo questo braccialetto noi in Sardegna abbiamo tantissime tradizioni ad esempio so che a Napoli si utilizza il cornetto per portare fortuna e scacciare via il malocchio adesso sono curiosa di sapere se anche da voi c'è qualche tradizione quindi l'unica cosa che utilizzo è questo e basta altrimenti per me stessa si realizzo come avete visto tantissime scatole contenitori per conservare i vari materiali ma cose da indossare in genere è raro perché non lo so non indosso quasi mai niente per me stessa ciao Silvia all'angolo di Michael ciao come stai tutto bene grazie tu poi so che non c'entra ma i video per l'agenda non li fai più certo che c'entra tranquilla fatemi tutte le domande che volete allora per l'agenda prima li facevo non spesso però li facevo pensavo fosse una cosa che comunque non vi piacesse così tanto e poi come dico sempre anzi vabbè l'ho detto l'altra volta nel primo video in diretta io sono una persona che va un po' controcorrente nel senso che non mi piace fare le cose che fanno tutti perché cioè mi annoio io a vedere questi video magari penso che comunque potrebbe annoiare anche voi quindi le cose che vengono fatte e rifatte preferisco non farle però ad esempio lo scrapbooking riguardante l'agenda è una cosa che mi piace molto è solo che non ho proprio avuto il tempo di fare dei video riguardanti la decorazione dell'agenda perché un periodo tante di voi mi hanno chiesto dei tutorial per fare delle bomboniere decorazioni per bomboniere quindi visto che adesso è periodo di comunioni battesimi matrimoni mi sono impegnata più su questo e magari prossimamente rinizierò anche a fare dei video sull'agenda perché comunque piacciono anche a me poi vediamo un po' sto bene solo un po' stanco mi dispiace Michael ciao spiro english no italian ah giusto ecco adesso mi sono ricordata cosa vi dovevo dire allora come ben sapete tanto tempo fa anzi il mio canale quando ho iniziato ho iniziato così io realizzavo dei tutorial sia in italiano spagnolo francese inglese ovviamente con i sottotitoli perché non parlavo neanche nei miei video in italiano e tantissime persone di tutto il mondo si sono iscritte sul mio canale dal Messico Ecuador Spagna Cile quasi tutta l'America Latina e questa cosa mi ha reso veramente felice perché ha reso il mio canale un po' multietnico e quindi poi dopo un po' comunque ho smesso di realizzare questi video in inglese in francese in spagnolo perché alcune mi avevano detto ma guarda che tu sei italiana devi fare solo dei tutorial italiani alla fin fine ho smesso e mi sono dedicata solo ai video in italiano però nel frattempo tutte le persone che parlano comunque una lingua diversa dalla nostra sono rimaste sul mio canale e hanno continuato a seguire i miei tutorial e questo mi fa molto piacere ho visto qualche mese fa che uno dei miei primi tutorial in spagnolo ha superato un milione di visualizzazioni un milione rendiamoci conto e mi ha fatto capire che comunque c'è una presenza altissima di persone che mi seguono e che parlano la lingua spagnola perciò io volevo chiedervi questo consiglio siccome anche agli spagnoli piacciono i miei video tutorial volevo sapere se vi farebbe piacere che io riniziassi a fare dei tutorial non soltanto in italiano ma anche in spagnolo in francese o inglese ovviamente il tutorial sarà lo stesso però poi anche con i sottotitoli in altre lingue quindi ad esempio un video in italiano e poi contemporaneamente usciranno anche i tutorial in altre lingue quindi il mio pensiero era questo oppure volevo sapere se mi consigliate di più di aprire un altro canale dove realizzo dei tutorial solamente ad esempio in spagnolo perché sono le persone che comunque mi seguono di più rispetto agli inglesi oppure i francesi quindi cosa mi consigliate di aprire un altro canale o fare comunque anche dei tutorial in altre lingue quindi volevo chiedervi proprio questo nel frattempo ho quasi terminato la prima parte del cerchietto vediamo un po' i vostri commenti allora ciao Silvia di dove sei? complimenti sei molto brava ps salutami la mia terra allora io abito in Sardegna in un paesino in provincia di Cagliari quindi Serena anche tu sei sarda? allora da noi il sale a Ferrara contro il malocchio sì anche noi utilizziamo il sale ma penso che comunque il sale sia una cosa che viene utilizzata in quasi tutte le regioni ad esempio noi lanciamo il sale dietro le spalle per scacciare un po' di malocchio allora perché non fai tutorial speed nel senso tutorial veloci esempio un video dove fai vedere sei tutorial su come fare una decorazione per le scatole ma intendi con i miei tutorial già pubblicati o con dei tutorial nuovi? oggi abbiamo tantissimi tantissimi spagnoli io soy spagnola io intendo l'italiano hola nieves un beso Ima mi dice io ti consiglio di aprire un altro canale sì aprire un altro canale e riniziare da zero è una cosa molto molto tra virgolette faticosa perché comunque all'inizio non ti conosce nessuno e se le persone poi non vanno ad iscriversi sul tuo canale cioè stai facendo dei video nuovi e sono come per dire sprecati perché nessuno li andrà a vedere mentre su questo canale che ci sono già tutte queste persone che mi seguono da tutto il mondo cioè diciamo che i video non andrebbero sprecati comunque ci penso vediamo un po' poi cosa mi avete detto allora io ti consiglio dei tutorial in altre lingue perché due canali devi gestirli entrambi e diventa troppo impegnativo esatto intendevo anche questo fai tutorial in altre lingue ok grazie a tutti fai in tutte le lingue che puoi e nei titoli metti ita espanol e english grazie spiro sì falli sotto titoli così ti conoscono e capiscono tante persone ma voi dite di realizzare un unico video con più sottotitoli oppure ad esempio un video in spagnolo un video in inglese un video in francese è sempre lo stesso video però ogni video ha i suoi sottotitoli di quella determinata lingua sì senza dover creare mille canali sì ok da noi in Sicilia il sale e il rosso ah sì vedi invece da noi il verde entrambi sia già fatti che nuovi ok beh unire più video contemporaneamente sì ho visto anche di questi speed video però cioè è un po' un caos perché sei concentrata a capire e guardare un solo tutorial e quindi i restanti non stai lì a guardarli tanto è un'idea molto carina però anche questa è molto impegnativa ci devo pensare Maya dice secondo me dovresti fare la cosa che ti prende meno un canale in altre lingue mi sembra una bella idea sì è una bella idea però concentrare un un canale in un'altra lingua per me sarebbe un po' difficile perché comunque dovrei riempirlo quel canale nel senso che dovrei fare tantissimi video e in genere io sono una persona che inizia a fare tante tante cose contemporaneamente e poi piano piano le abbandona quindi non vorrei poi alla fine ritrovarmi ad abbandonare il canale spagnolo perché mi dispiacerebbe molto perciò penso che magari ogni tanto di caricare qualche tutorial anche in spagnolo ovviamente con i sottotitoli e ogni tanto non dico sempre in modo da non disturbare voi che siete italiane e quindi riempire il canale con video di altre lingue sarebbe un po' un po' scocciante secondo me cosa ne pensate io ti consiglio di farlo in questo canale così tutti i tuoi iscritti stranieri ti seguiranno di più hai ragione meglio i sottotitoli uno per lingua direi che è più facile cioè non mi immagino un video in troppe lingue insieme è ovvio hai ragione ok poi Giada dice da me il corno e i delfini portano fortuna ah sì bellini i delfini mi piacciono molto mi sono bloccata perché sento che mia madre sta guardando il mio video in cucina e quindi sento il mio ritorno il ritorno della mia voce allora Michael mi chiede che scuola hai fatto ti ha aiutato per quello che fai ora assolutamente no hai mai pensato di creare un canale telegram in cui avvisare tutti gli iscritti in tempo reale allora io nel frattempo vi faccio vedere che adesso devo tagliare una parte della stoffina eccesso praticamente io lascio più o meno un centimetro dalla punta del cerchietto così nel frattempo concludiamo anche questo cerchietto allora io ho il diploma di ragioniere perito commerciale e non c'entra assolutamente con ciò che faccio che faccio adesso ho scelto questa scuola non perché io fossi interessata alle materie riguardanti la matematica oppure l'economia l'ho scelta perché era la scuola più vicina al mio paese e quindi per non svegliarmi presto che io sono una grandissima pigrona lo ammetto ho scelto questa scuola che è a fianco al mio paese e quindi ogni mattina invece di alzarmi alle 6 per prendere il pullman e andare magari a Cagliari in una scuola che magari mi piaceva di più ho scelto questa che invece mi alzavo solamente un'ora prima quindi alle 7 e poi prendevo il pullman insomma quindi non c'entra assolutamente niente con le mie passioni devo dire anche la verità quando ero alle medie io sì quando ero piccola sono sempre stata una bambina creativa però non avrei mai pensato che oggi a parte che youtube prima non esisteva quindi non c'era neanche magari il modo per poter sfruttare cioè non sfruttare per poter diciamo far esplodere questa mia creatività non sapevo assolutamente che cosa volevo fare un domani le uniche cose che magari sapevo erano che volevo andare in quella determinata scuola per magari stare anzi la scelta era o andare a Cagliari e andare a scuola con le mie compagne di classe quindi andare insieme a loro oppure andare in quest'altra scuola a fianco al mio paese per non alzarmi così presto e la mia scelta è stata quella per non alzarmi presto devo dire la verità questa scuola mi è piaciuta molto nonostante ovviamente ci sono state mille difficoltà poi ho scoperto che non era concentrata solo sulla matematica e purtroppo io non sono portata per la matematica però mi sono diplomata lo stesso perché non era concentrata solo sulla matematica diciamo che ho studiato delle materie che comunque riguardavano anche la politica mi hanno aiutato a capire un po' la situazione della politica l'economia e mi è piaciuta perché ho imparato tantissime cose però cioè adesso pensandoci dico sì mi sarebbe piaciuto andare all'artistico anche se purtroppo non so disegnare e vabbè è stata una scelta una scelta così però sono felice di aver fatto comunque questa scelta e vediamo un po' cosa mi avete scritto allora Imma comunque anche se li fa in italiano youtube ha già l'opuzione dei sottotitoli è vero anche questo è vero poi Andrea bella contigo apprendo il pratico italiano grazie ciao purtroppo devo andare ma recupero la live ciao già da un bacione poi Francesca mi dice secondo me sarebbe meglio fare un video per ogni lingua e non aprire un altro canale esatto hai ragione ciao Carmen ciao Sara ora che lavoro fai? allora sono attualmente disoccupata purtroppo è così come tanti ragazzi della mia età non mi scoraggio e come vi ho detto anche nella live precedente io faccio tra virgolette lobbista o espongo in sagre fiere dove mi invitano le proloco oppure il comune ad esporre i miei lavori quindi espongo i miei accessori per capelli tutte le mie creazioni e quindi poi ovviamente queste sagre e queste esposizioni insomma sono adatte alla mostra e alla vendita quindi magari qualcosina riesco a guadagnarla così ma non è che sia un lavoro vero e proprio anche perché comunque è una cosa molto faticosa perché devi viaggiare devi alzarti presto la mattina poi sei al freddo sei al gelo oppure al caldo e insomma se avessi magari un lavoro di sicuro non farei ciò che faccio adesso perché comunque fare le esposizioni è una cosa tra virgolette abbastanza pesante cioè non proprio pesante però almeno io dico tra virgolette mi sono inventato un lavoro quindi non rimango senza fare niente mi arrangio come posso e poi vabbè faccio corsi di creatività insomma faccio sempre tante cose anche se magari non vengono riconosciute come posso dirvi non so neanche come spiegarvelo perché comunque oggigiorno la creatività non viene considerata così tanto come un lavoro e vabbè e così andiamo avanti non ci tiriamo giù poi Michael mi chiede quando eri piccola che lavoro volevi fare? ah ne volevo fare tantissimi dalla ballerina alla dottoressa alla scrittrice all'astronauta e mi sarebbe piaciuto fare tantissime cose però puntavo sulla ballerina e sulla scrittrice e anzi anche la dottoressa adesso che mi ricordo allora come vedete ho concluso la prima parte del cerchietto sembra abbastanza perfetto guardate come rimane rotondo e segue la linea del cerchietto questo è l'interno poi come vi dico sempre non preoccupatevi perché poi andremo a nascondere tutte le cuciture puoi puoi vendere anche online sì è vero però per vendere online mi devo un po' informare anche perché poi qui il mio paesino è piccolo e dovrei andare a spedire ovviamente alla posta e quando devo andare alla posta è veramente un incubo perché il mio paese essendo piccolino abbiamo solo una posta che è aperta solo la mattina è sempre pieno perché c'è tutto il paese magari vai lì che devi fare solo una piccola spedizione o pagare una cosa e alla fine ci resti due ore lì aspettando la posta e alla fine dici no basta non venderò mai più online e poi a parte che non mi fido io sono una persona molto diffidente perché magari hai paura che ti rubino i soldi dalla post pay oppure che magari il pacco si perda insomma sono tantissime cose che mi faccio mille problemi e poi non spedisco mai niente perché cioè preferisco vendere magari di persona piuttosto che spedire qualcosa però voi mi avete consigliato di aprirmi un negozietto Etsy dove farvi vedere tutte le mie creazioni insomma vendere online e mi avete detto che comunque è una cosa sicura devo un po' capire come funziona Etsy così magari aprirò un negozietto e venderò le cose direttamente online anche perché ho visto che tantissime creative che hanno un canale su youtube lo fanno già da tanto tempo quindi vuol dire che è una cosa semplicissima comunque allora Francesca mi dice comunque sei finita in un mio tutorial va bene poi lo voglio vedere poi grazie a tutte per avermi consigliato di aprire uno shop online ciao Anna io sto puntando ad essere un doppiatore allora mi è balenata in testa anche l'idea di fare la doppiatrice magari di cartoni animati perché come ben sentite la mia vocina rimane molto molto piccola e fine e quindi ho detto sarebbe una cosa troppo divertente essere la doppiatrice di bambini in dei film oppure nei cartoni animati è una cosa che veramente ho pensato da tanto tempo anche perché ok allora volevo dirvi che adesso ho iniziato a cucire anche l'altra parte del cerchietto dicevo quando ero piccola andavo a trovare mia nonna lei mi portava in giro a fare la spesa e tutto e i compaesani mi dicevano che avevo la voce da cartone animato e quindi mi dicevano ciao voce di cartone animato e io ero piccolina avrò avuto sei anni e quindi questa cosa mi è sempre rimasta in testa poi Carmen mi dice anche io facevo i mercatini ed è molto faticoso soprattutto con il caldo e sì Claudia mi chiede perché l'austronauta perché cioè sapete che comunque i bambini corrono con la fantasia e il fatto di viaggiare tra le stelle nell'universo insomma era una cosa che mi affascinava molto poi ovviamente ho messo i piedi per terra sono cresciuta e non farò mai l'austronauta poi Andy mi chiede ti piace ti piace di più scrivere o leggere? allora mi piace tantissimo leggere e altrettanto scrivere un periodo ero fissata che dicevo che dovevo scrivere il mio libro e raccontare tantissime cose insomma è un'idea che ho ancora tuttora però ve l'ho detto sono pigra e da qui a scrivere un libro io non lo so comunque adoro leggere un periodo leggevo tantissimo adesso purtroppo mi sono fissata che prima di dormire guardo video su youtube e non va assolutamente bene perché preferivo leggere però guardo i video su youtube di notte perché mi sono fissata con i video ASMR non so se li conoscete praticamente sono quei video la prima volta che ne ho visto uno di questi video mi sono veramente spaventata perché ho detto che cos'è questo video praticamente è un video rilassante dove le persone che stanno facendo quel video che sia un ragazzo o una ragazza sussurrano e fanno anche i role play che sarebbero dei giochi di ruolo in cui ad esempio fanno finta che ti trovi in una spa quindi ti fanno la pulizia al viso oppure un massaggio oppure pettinano delle parrucche insomma sono dei video molto particolari e mi aiutano tantissimo a rilassarmi prima di andare a dormire e l'ho scoperto dall'anno scorso ed è dall'anno scorso che guardo questi video mi piacciono veramente tantissimo sono dei video particolari che non piacciono a tutti ad esempio ne ho fatto vedere da poco uno a mia madre per farla rilassare però niente lei rideve e basta e a tutti non piacciono a tutti a proposito di video ASMR ho visto che Francesca Russo che mi segue ciao Franci lei realizza dei video ASMR ed è molto brava anche lei quindi se siete curiosi potete andare anche sul canale di Francesca a vedere questi video oppure basta che scrivete ASMR su YouTube e ne trovate tantissimi poi quando ti è nata la passione per la creatività io sono sempre stata creativa già da piccola quindi facevo i braccialetti disegnavo mi ricordo che mi avevano regalato una piccola macchina da cucire giocattolo proprio piccola ovviamente non cuciva non serviva a niente però mi piaceva tantissimo e diciamo che la mia creatività è esplosa dopo il diploma perché mi sono ritrovata senza senza fare niente perché dopo che ti diplomi ormai hai già raggiunto il tuo obiettivo che sarebbe quello di diplomarti e poi ti ritrovi così senza fare niente e come vi ho raccontato l'altra volta io ho iniziato facendo le bomboniere per la cresima di mia sorella avevo realizzato degli anelli che sono uguali a questi quindi questi qui però erano sul verde e sul blu ho fatto questi anelli come bomboniera sono piaciuti a tutte le zie perché era comunque un accessorio molto bello e poi era un lavoro fatto a mano e niente poi da lì avevo aperto il mio canale perché era successo che avevo allora tanto tempo fa youtube era diverso i creativi su youtube erano pochissimi perché molte persone non sapevano neanche cosa fosse youtube e quindi io ero andata su youtube a cercare delle idee e avevo chiesto a delle ragazze che all'epoca facevano i video su youtube se potevano darmi dei consigli su come poter realizzare questi anelli una di queste ragazze mi disse che è stata molto scortese mi disse ah ma se certe cose non le sai fare cosa ti vuoi mettere a fare insomma che era inutile mentre l'altra mi ha detto che lei non poteva realizzare insomma un tutorial per quell'anello lì e vabbè e quindi da quel momento la ragazza che è stata molto sgarbata con me non l'ho più seguita e mi son detta da quel momento ho detto ah sì visto che io se non so fare le cose inutili che le faccio adesso ti faccio vedere io cos'è che so fare quindi da quel momento ho aperto il mio canale su youtube ho fatto il tutorial di questi anelli che è un tutorial che è rimasto due giorni sul canale perché poi alla fine mi vedevo io e spiegavo perché avevo fatto quegli anelli ed era perché li avevo fatti come bomboniera quindi era rimasto due giorni e poi l'ho cancellato perché mi vedevo io e avevo troppa vergogna e poi oltre a quel tutorial su gli anelli avevo caricato anche un tutorial per far vedere come si realizzavano dei cerchetti o degli accessori lì non mi vedevo io e quindi quel tutorial c'è tuttora oggi c'è tuttora non tuttora oggi e niente poi da lì tantissime persone mi hanno chiesto dei consigli e il mio canale è andato avanti quindi è diciamo che da quel momento che la mia creatività è esplosa ah e adesso ora che mi è venuto in mente questo pensiero di questa ragazza che è stata molto sgarbata con me io il mio canale è andato avanti lei invece si è fermata e perché nessuno la segue più forse perché tutti si sono resi conto che era una ragazza con la puzza un po' sotto al naso e questo mi fa molto molto ridere allora poi Fiorella mi dice ci sono correri a domicilio per le spedizioni evita la posta va bene grazie mille poi Maria Grazia mi dice ciao Silvia ben ritrovata ciao Maria grazie un bacione poi si si apri un negozietto così potrò acquistare le tue creazioni grazie Adriana mi fa molto piacere poi Michael mi dice se voi potremmo fare dei doppiaggi insieme io ne ho fatti alcuni sul mio canale lo so mi piacerebbe molto però io sono sempre di corsa cioè a parte che io odio usare il computer io il computer lo uso solamente quando devo montare i miei tutorial e pubblicarli perché in genere seguo un po' i social dal telefono e il computer cerco sempre di usarlo il meno possibile anche perché proprio non ho il tempo magari se qualche giorno ho il tempo ne possiamo anche parlare Michanunu ciao non ne avevo mai sentito parlare Maya cos'è Maya di cui non hai mai sentito parlare poi la mia amica Giada è arrivata ciao Giada del canale Fairy Fashion Art Giada è bravissima iscrivetevi se non andate a trovare Giada Fairy Fashion Art sul suo canale io mi offendo e mi gratto anche il naso poi allora Anna mi dice da piccola ho avuto anche io una macchina da cucire ma poi sono troppo carine Ima mi chiede potresti fare un tutorial di bomboniere da comunione per maschietti certo con molto piacere dimmi un pochino il genere insomma lo stile che ti piacerebbe perché come vedete io alla fine realizzo cose soprattutto per bambine quindi bomboniere rosa ho realizzato anche il fiore portaconfetti ed è veramente carinissimo come bomboniera era rosa quindi tu puoi realizzare lo stesso fiore però utilizzando della stoffa celeste o azzurra e secondo me quella è un'idea fantastica per le bomboniere anche perché comunque questo fiore è talmente carino che poi può essere utilizzato per decorare anche tante altre cose allora brava Silvia alla facciaccia loro esatto i video smr se si chiamano così li voglio anche anche io voglio una tua creazione vendi 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 grazie Francesca mi dice secondo te come affrontare l'imbarazzo se il tuo conoscente ti becca su youtube ecco questa è la mia reazione nel senso che mi nascondo allora le persone mi dicono tu se fai video su youtube non hai vergogna perché ti stai anche facendo vedere ovviamente l'imbarazzo c'è soprattutto se si tratta di una persona che ti conosce dal vivo e infatti a me mi scoccia troppo quando le persone che mi conoscono di persona vengono a guardare i miei video perché comunque sono i primi che magari ti possono giudicare e magari possono non capire ciò che stai facendo e quindi Francesca ti capisco benissimo e vabbè se ti becca su youtube dici faccio i video su youtube faccio dei tutorial non sto facendo niente di male e continui a fare ciò che stai facendo senza vergognarti perché ripeto non stiamo facendo niente di male poi c'è chi capisce c'è chi non capisce però pazienza l'importante è non fare niente di male l'imbarazzo c'è ti capisco quindi non posso assolutamente consigliarti niente nel frattempo ho quasi finito il cerchietto mi manca l'ultimo passaggio ho già tagliato la stoffa in eccesso a un centimetro dalla base quindi semplicemente vado a tirare questi pezzettini verso l'interno e anche questi li cucisco e il cerchietto è finito come avete visto è stato veramente semplicissimo ovviamente mi sono persa in chiacchiere diciamo così altrimenti l'avrei già finito quindi più o meno per fare un cerchietto se non chiacchierate tanto come me ci vuole più o meno 10-20 minuti a seconda anche del tessuto io in genere nei miei tutorial velocizzo tutto quanto altrimenti vi annoierei però come vedete è semplicissimo poi per nascondere le cuciture con la colla a caldo incollate la passamaneria ve ne faccio vedere qualcuna ecco queste sono tutte le mie passamanerie queste le ho acquistate nei negozi qui dove vendono i tessuti perché purtroppo su internet non le trovo queste passamanerie allora abbiamo ad esempio questa tuta rosa le ho un pochino di tutti i colori poi bianca verde eccole qui e all'incirca al metro costano a seconda di dove le comprate 40-50 centesimi ecco qui il cerchiettino come vedete ci sono tutte le galline le troppo carine ho già preparato il fiocco l'ho preparato doppio poi se volete vedere come l'ho fatto trovate tanti tutorial nel canale poi con la colla a caldo lo incollerò a un lato del cerchietto e quindi ecco qui il cerchiettino ed è semplicissimo poi sta venendo benissimo grazie mille Imma Francesca dice sì infatti ancora non mi ha beccato nessuno meno male meglio così poi Anna mi chiede ti piace cucire con la macchina da cucire o con ago e filo come fai di solito di solito faccio sempre a mano perché mia madre non mi vuole far usare la sua macchina per cucire perché sa che io la userei per cucire qualsiasi cosa ad esempio non so se avete mai visto uno di quei bellissimi album di foto con le copertine in tessuto e alcune di queste sono sia incollate che cucite con la macchina per cucire e io ho questo progetto in mente di prendere il cartone foderarlo con la stoffa e poi passarlo con la macchina da cucire ovviamente la macchina da cucire non si dovrebbe guastare perché lo stesso progetto l'avevo visto tanto tempo fa da Eleonora del canale Sweet Biodesign quindi se la sua macchina da cucire è tuttoggi intatta ciò significa che anche alla mia macchina da cucire non succederà niente ovviamente ci sono macchine da cucire e macchine da cucire quindi dalle più costose alle meno costose mia madre aveva una bellissima macchina da cucire che aveva tantissimi anni e purtroppo si è guastata ne ha comprato una la Lidl che costa intorno ai 69-79 euro che diciamo sì è una buona macchina da cucire però è una macchina da cucire base nel senso che devi starci molto attenta perché se no si può guastare si può come posso dire ingolfare no ingolfare si ingolfano le macchine insomma si può guastare e quindi non puoi cucire tutti i tessuti perché non riesci a cucirli quindi alla fine ciò che faccio devo cucirlo a mano altrimenti prima me lo cuce lei oppure mi tiene sotto occhio perché ha paura che gli guasti la macchina per cucire quindi non me la fa usare perciò me ne dovrò comprare una tutta mia in modo che se faccio qualche progetto strano e si guasta è solo colpa mia poi ci piace sentirti chiacchierare grazie mi fa troppo piacere poi lucia mi dice peccato sono arrivata ora non ho visto l'inizio il tutorial dall'inizio peccato lucia mi dispiace magari la prossima volta potremo ricreare insieme dall'inizio perché il cerchietto è finito ed è stato cioè è stata la cosa più semplice del mondo da realizzare però volevo fare una prima prova per vedere se comunque è fattibile creare insieme in diretta con voi fatemelo sapere così magari mi date anche lo spunto per mostrarvi che cosa creare una prossima volta poi Sara mi dice sì hai una vocina da bambino ma è bello sentirti parlare guarda Sara io odio la mia voce perché purtroppo chi non mi conosce a volte non mi prende sul serio perché dice no ma tu sembra che hai 16 anni non ne hai 27 e Anna mi dice hai una voce rilassante grazie Anna Imma mi dice non si rompe se cuce il jeans è vero se cuce il jeans non si rompe quante volte ho fatto l'orlo ai miei jeans perché come vi ho detto l'altra volta io purtroppo sono bassa e ogni volta che vado a comprare i jeans purtroppo mi stanno troppo lunghi e quindi devo tagliarli e fare l'orlo allora fai il tour della stanza in diretta allora Fiorella io il tour lo farei però anche se da dietro le mie spalle la stanza sembra tutta a posto in realtà non lo è c'è un caos e quindi è meglio che non mi muova così non riuscite a vedere niente e sì mi piacerebbe molto fare il tour in diretta della stanza me l'avete chiesto anche nel video precedente però prima devo mettere un pochino in ordine e quindi farò finta che la mia stanza è in ordine facciamo finta che non vi ho detto niente e quindi sì magari un giorno lo farò allora vediamo che ore sono le 5 e 4 minuti e l'audio cioè non l'audio la live dovrebbe finire ora io stamattina volevo fare la live dalle ore 17 alle ore 18 perché comunque più persone riescono a seguirmi purtroppo voi mi sono ricordata che alle 18 ho un impegno e quindi l'unico orario fattibile era questo mi raccomando adesso voi consigliatemi che orario fare per le prossime dirette in modo da anche voi essere un pochino più comode allora io ho 37 anni e per telefono mi scambiano per mia figlia è la stessa cosa che capita a me ciao Silvia mi c'è Nuno sono sempre io ok Luciana ora lo so così me lo ricorderò per la prossima volta e allora avete qualche ultima domanda da farmi così magari arriviamo alle 17 e un quarto e poi chiudo la live allora per la live meglio alle ore 17 sì dalle 17 in poi perché magari di pomeriggio siete comunque impegnate in genere il pomeriggio anche io sono impegnata perché comunque dopo pranzo bisogna fare tutte le pulizie sistemare mettere a posto per oggi visto che avevo deciso di fare il video in diretta mi sono un po' sbrigata quindi alle 17 perfetto quindi ricapitolando vi ho detto sì dove compro la stoffa e i nastri colorati perché era importante e me lo chiedevate sempre quindi ripeto li trovate nei negozi dove vendono i tessuti della vostra città se magari non è la vostra città è la città a fianco perché ad esempio io proprio nel mio paese non compro i tessuti perché qui essendo il paese piccolino i tessuti costano molto quindi magari vado nei paesi a fianco che hanno degli store più grandi e quindi ci sono tessuti molto più convenienti altrimenti su internet cercate su internet su aliexpress su siti come bangood io ultimamente li ho comprati lì tantissimi tantissimi tessuti oppure anche li ho presi in saldo sul sito epwitch e mi sono piaciuti tantissimo quindi se saranno nuovamente in saldo li prenderò di nuovo perché cerco sempre di risparmiare e poi la storia dei video spagnolo ve le ho chiesti quindi cosa fare se aprire un altro canale o se fare dei video con i sottotitoli e mi avete abbastanza soddisfatto come risposte e non lo so qualche altra qualche altra curiosità allora quando compri su siti cinesi hai spese doganali non mi è mai successo anzi una volta sì quando ho ordinato su un sito che si chiama Panda Hall insomma vende materiale creativo per creare gioielli insieme alle mie amiche avevamo creato fatto un ordine enorme quindi sui 100 euro di spesa e purtroppo il pacco essendo così grande e così pesante è stato fermato all'addogana e abbiamo speso però in genere quando compro da sola non mi è mai 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 successo fortunatamente quindi per quello ho continuato a comprare online da siti cinesi volevo farvi vedere la mia mogliettina guardate che carina c'è scritto youtube me l'ha regalata youtube stesso sono troppo contenta perché purtroppo c'è io abitando in Sardegna e youtube non facendo mai dei workshop in Sardegna perché li fa sempre a Roma a Milano visto che ultimamente anche a Venezia e alcuni di voi mi hanno chiesto se ci sarei andata ma io ovviamente non ci vengo non perché non ci voglia venire ma perché so di questi eventi all'ultimo momento e io ovviamente abitando in Sardegna mi devo organizzare il viaggio e costicchia un po' fare un viaggio anche se solamente per un giorno quindi siccome quando le ragazze che fanno video come me vanno a questi eventi ne tornano a casa piene di magliettine tazze penne borse con scritto youtube io l'anno scorso ho chiesto a questa ragazza molto gentile che sta su youtube cioè che lavora dentro youtube se poteva spedirmi qualcosa perché purtroppo io non posso partecipare e quindi mi hanno dato questa magliettina troppo carina mi sento parte del sistema anch'io adesso vabbè lasciamo perdere poi Francesca mi dice no non ci lasciare in queste due settimane fai tante live così ci tieni in compagnia per me allora va bene dopo le 16.30 ok perfetto mi fa tanto piacere grazie Francesca io ho avuto problemi del genere mi dispiace purtroppo c'è la dogana colpisce nel momento meno opportuno nel senso che magari fai un acquisto che costa 20 euro il pacco ti arriva e non paghi niente però metti che poi ne paghi fai un altro acquisto di 30 euro e ti arrivano 10 euro di dogana cioè veramente non lo so su che base calcolano tra virgolette la dogana o su quali determinati pacchetti o su quali determinati siti è proprio una cosa a scatola chiusa non sai mai quando succeda a me non mi è ancora successo spero che non mi capiterà mai poi Anna mi dice mi piacerebbe tantissimo se fai il video sulla postazione creativa allora la mia postazione creativa sì lo potrei anche fare però alla fine potrei inserirlo nel video del room tour però vi spiego un attimo la mia postazione creativa è questa che ho qui davanti ho la mia scrivania sotto la scrivania ho dei insomma la scrivania degli spazi in cui puoi inserire quello che vuoi quindi questa è la mia postazione creativa creo qui sopra oppure a un lato ho la seda stiro vi sto svelando gli arcani queste cose voi non dovreste saperle dove ovviamente stiro i tessuti oppure a volte ho la ho la ho la ho la scrivania piena e quindi non c'è più posto di fare cose sulla scrivania e mi sposto sulla seda stiro poi ho un altro armadio qui a fianco dove ho tutti i miei materiali creativi ho tutti i cerchietti che ho realizzato quindi la mia postazione creativa è molto piccola anche se cioè sì insomma non è piccola ci sta tutto quello che serve però comunque un giorno prima o poi quando metterò tutta la mia stanza in ordine prometto che farò questo video room tour poi Sara mi dice Aliexpress è il sito preferito anche youtuber come Kika73 e Erika Kawaii allora Kika73 non so chi sia Erika Kawaii sì so chi è perché ci ho anche collaborato però cioè come dicevo prima anche all'inizio io sono più controcorrente nel senso che cerco di trovare anche altri siti che magari sono sconosciuti e che non piacciono a tutti in modo da cioè nel senso non so come spiegarvelo però è così poi no mi sa che è finita allora vediamo un po' chi ore sono allora Ima dice grazie per aver fatto questa live per aver risposto alle mie domande un bacione grande grande grazie a te Ima per essere stata qui mi fa tanto tanto piacere allora ragazze e ragazzi sono le 17 e 12 minuti vedo che non avete altre domande quindi io vi ringrazio di cuore per essere state con me anche in questa live ringrazio di cuore anche tutte le persone che erano con me nella prima live che ho fatto la settimana scorsa dove abbiamo chiacchierato tantissimo vi ho fatto vedere i miei regali di compleanno quindi se siete curiosi potete andare a guardare anche quella live che alla fine è durata due ore e quindi niente mi sono divertita tantissimo con voi anche questa volta spero che avete avete comunque abbiate siate riuscite a capire qualcosa della spiegazione insomma del tutorial del cerchietto quindi questo è il risultato spero vi sia piaciuto e niente ringrazio di cuore a tutti saluto tutte le ragazze che fanno parte del gruppo facebook la mia versione del fai da te trovate il link nell'info box per seguirmi nei social perché ad esempio su instagram soprattutto ultimamente sto pubblicando foto e anteprime dei tutorial che poi carichero prossimamente sul canale vi dico quando faccio le live e poi anche su facebook la stessa cosa grazie a tutti per i vostri commentini e tutti i saluti che mi state mandando saluto anche chi mi ha seguito anche dalla spagna dal cile dal messico la nives ciao a tutti ciao imma ciao barbara ciao hendy buonissima serata ti voglio bene grazie di tutto grazie sei un tesorissimo grazie grazie di cuore a tutti io adoro voi grazie a voi per la compagnia e noi ci vediamo la prossima volta magari non lo so a sorpresa una live la settimana prossima hola deni ecco ecco continuate a seguirmi da tutte le parti del mondo sono troppo contenta bene adesso vi mando un bacione a tutti grazie 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 ciao